Grazie, signor Presidente. Nessuna discriminazione, non noi, ma la grande maggioranza del popolo italiano, non noi, ma la Costituzione italiana, siamo convinti che il luogo ideale per il bambino, perché possa crescere e maturare umanamente, è una famiglia in cui c'è un padre e una madre e il vincolo del matrimonio dà più garanzie al bambino. Questa è la razza della norma. Nessuna discriminazione e la ricerca del massimo di garanzie possibili perché il bambino possa crescere e vivere felice. La ringrazio, collega Buttiglione. Non ci sono altri interventi? Nicchi, prego. Per dichiarare il voto favorevole di SEL. La ringrazio. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Dichiaro aperta la votazione. 1.9 Marzano. Pallese. Carinelli. Carinelli. Pilozzi. Pilozzi. Fabri. Fabri. Tidei. Cera. Chi non ha votato ancora? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 139 favorevoli, 286 contrari. La Camera respinge. Adesso andiamo all'1.11. Buonafede. Buonafede. Grazie, presidente. Colgo l'occasione per fare una riflessione di carattere generale sul provvedimento, che è un provvedimento certamente molto importante, che arriva sulla scia di una decisione della Corte di giustizia europea, che spiega un principio che è un principio sacrosanto, cioè quello per cui, nel momento dell'affidamento di un minore che proviene già da una situazione molto delicata e particolare, si sviluppa un rapporto di affetto tra i genitori affidatori e il minore e quel rapporto di affetto deve essere preso in considerazione nel momento in cui il minore viene dato in adozione. In particolare, è come se si dicesse che i genitori...